Ciao e benvenuto, mi presento, il mio nome è Carlo e sono un Wellness Coach di Herbalife Nutrition. Come per molte persone, siamo sempre interessati a trovare qualcosa che ci aiuti a stare meglio, ad avere più energia, più concentrazione, a controllare il peso e renderci così più piacevoli le nostre giornate anche per le persone vicine a noi. E' risaputo che un buon punto di partenza per ottenere tutto questo è, una dieta equilibrata e un'alimentazione di qualità. Bere molta acqua, fare esercizio fisico, se riusciamo a coniugare con costanza queste tre componenti fondamentali per il benessere quotidiano, ci garantiremo, giorno dopo giorno, le migliori condizioni per sentirci meglio, avere maggiore energia e migliorare l'umore. Ma ora parliamo un po' di te. A quale obiettivo di benessere stai pensando in questo periodo? Fai parte di quelle persone che hanno chiaro cosa fare per migliorare il proprio benessere? Oppure hai solo un'idea generica di cosa vorresti fare ed ottenere? Se fai parte di questi ultimi, avrai sicuramente capito che, desiderare una determinata situazione è una condizione necessaria ma non sufficiente per raggiungere un buon livello di benessere generale. Ora però ti invito a fermarti un attimo per un'altra domanda. Hai già impostato in maniera chiara cosa vuoi ottenere? Sai da dove cominciare? Se la tua risposta è, no, ho pensato allora a qualcosa di semplice e pratico per te che possa davvero aiutarti per iniziare. Ho il piacere di presentarti. Il profilo benessere. Che cosa è il profilo benessere? È un progetto di Herbalife Nutrition per promuovere stili di vita sani e attivi. Attraverso un veloce test online, in assoluta riservatezza, potrai ricevere gratuitamente via mail una scheda con i risultati del tuo test e una coppia gratuita della nuova guida al benessere. E inoltre potrai prenotare una telefonata di 45 minuti con me per verificare insieme i risultati del test senza alcun impegno. Ma cosa puoi fare da adesso? 1. Chiudere questo video e magari contattarmi in un altro momento. Oppure, 2. Cliccare adesso sul pulsante qui sotto per completare in maniera divertente il test. In tal caso ci vediamo dall'altra parte. Ti aspetto.